È una partita ancora tutta da giocare, quella relativa alla restituzione di tasse e contributi da parte delle aziende colpite d'altisma da parte della Commissione Europea. Un match che va giocato a Bruxelles e per il quale il Comune dell'Aquila si affida ai parlamentari europei, che all'Aquila hanno provato a rinfrancare istituzioni e associazioni di categoria. La questione preoccupa non poco il Vice Presidente della Regione Giovanni Lolli. Oggi, a parte gli aspetti giuridico, formali, legali e perfino etici, che insomma non ci vorrei tornare a una cosa veramente brutale e assurda, ma io parlo degli effetti pratici. Togliere oggi all'economia di questo territorio dai 50 ai 100 milioni, che colpirebbero sottratti alle imprese portanti di questo territorio, in un momento in cui nonostante la ripresa ci sia in Italia e la ripresa ci sia in Abruzzo, qui per il combinato del terremoto siamo ancora in grandissima difficoltà, una botta da 50, 60, 70 milioni di euro è una botta che può essere veramente mortale. Più rassicurante la posizione del loro deputato Davide Sassoli, per il quale la misura europea riguarderebbe solo un pugno delle 115 aziende che hanno beneficiato degli sgravi fiscali, ovvero solo quelle il cui regime fiscale dei minimi si supera i 500 mila euro. E comunque, anche per quelle, non è detto che la strada della restituzione sia già segnata. Non stiamo parlando di persone fisiche, quando si dice recupero delle tasse, no, non parliamo di persone fisiche, non parliamo di partite IVA, non parliamo di piccole aziende, non parliamo di esercizi commerciali, del bar, dell'officina, stiamo parlando di aziende che potrebbero distorcere il mercato. Queste aziende sono un pugno di aziende che sicuramente nella loro condizione, in un territorio così colpito, sapranno dimostrare di aver usato questi sgravi proprio per le condizioni che c'erano in quel momento e in quegli anni.